Bene. 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 Quindi, riprendiamo dalla mozione che avevamo lasciato nella sessione di stamattina. Ci eravamo detti, consigliere Smacchi, dopo l'audizione con le rappresentanze sindacali della Merloni, di riprendere questo tema. A lei la parola. Grazie, Presidente. Io avevo messo a disposizione il testo della mozione da me illustrata prima della sospensione, quindi prima di aver incontrato le rappresentanze sindacali dell'ex Merloni e della GEP. E nell'ambito di questo testo credo che sia opportuno da parte mia prendere in considerazione, quanto detto anche dal Presidente Ricci, in merito alla necessità da parte della Giunta regionale. Quindi io aggiungerei queste due righe al dispositivo già presente nella mozione dicendo appunto questo. Si impegna la Giunta regionale a sostenere progetti industriali in grado di rilanciare il settore manufattoriero nella fascia appenninica. Quindi due righe semplici che però si aggiungono al resto del deliberato. Credo poi che sia opportuno, Presidente, dato che poi all'incontro eravamo presenti non in totalità, che si apra adesso il dibattito e che l'assessore Paparelli o la Presidente comunque facciano una relazione rispetto anche alle novità che sono intercorse nella giornata di ieri al Ministero. Quindi depositiamo l'emendamento oppure lasciamo gli interventi? Allora ecco sì, sta arrivando l'emendamento. Io direi se vogliamo aprire gli interventi o lasciare adesso la parola all'assessore Paparelli che potrà in qualche maniera informare. Allora, passiamo agli interventi. Vedo che non ci sono interventi e quindi la parola all'Aggiunta o alla Presidente Marini. Assessore Paparelli. Grazie, Presidente. La situazione di crisi che ha coinvolto il gruppo Merloni come nodo ha assunto un particolare interesse all'interno del quadro delle crisi industriali nazionali in quanto riguarda un settore rilevante, il manifatturiero che ha coinvolto l'andamento economico di più territori ad alta vocazione produttiva. Il territorio è ricompreso in 17 comuni Umbri, oggetto dell'accordo del programma Merloni. Si è caratterizzato in una presenza del manifatturiero fortemente orientata nel settore dell'elettrodomestico. In questo quadro territoriale di particolare complessità è stato necessario intervenire con un accordo di programma con cui si è definita una manovra di intervento e la sua regolamentazione attraverso l'individuazione e il coordinamento degli strumenti e delle risorse nazionali e regionali che hanno interessato sia la regione Marche che la regione Umbria con cui fronteggiare la difficile situazione determinata. In questo quadro, ai sensi della legge 99 del 2009, nel 2010 le parti hanno sottoscritto un primo accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area interessata, definendo insieme e correntemente l'impiego di risorse nazionali, comunitari e regionali a disposizione. Nel dicembre 2011 è avvenuta la cessione in continuità aziendale del complesso produttivo Umbro-Marchigiano del gruppo Merloni alla GMP con riallocazione di circa 700 unità lavorative. Successivamente, alla luce della mutata situazione determinata, a seguito della cessione alla GMP dell'intero perimetro della ex Antonio Merloni, si è resta necessaria una rivisitazione dello strumento attraverso un riorientamento degli assi e delle risorse volte al sostegno e alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali utili alla reindustrializzazione dell'area. Per questo si è rimodulato l'accordo di programma il 18 aprile 2012. L'atto integrativo di questo accordo di programma contiene le misure, le modalità e le risorse per la reindustrializzazione delle aree, comprese la riprogrammazione delle risorse statali che, ricordo, sono pari a 35 milioni di euro contenute nell'accordo di programma che era precedente nel 2010. Comprende inoltre il progetto di riconversione e riqualificazione industriale articolato nei due interventi principali, promozione imprenditoriale e politica attiva di lavoro. L'atto di compravendita del complesso industriale Merloni, sulla base di un ricorso presentato da un pool di banche, è stato dichiarato nullo nel luglio 2013. Sto facendo un po' la storia perché serve a capire dove siamo arrivati oggi. Con sentenza confermata nell'aprile 2014, ancora giacente in Cassazione. L'annullamento dell'atto di compravendita ha rappresentato un ostacolo a che le cose procedessero ovviamente in maniera spedita e, così come lo ha rappresentato, l'utilizzo della 181, così come interpretato inizialmente da Invitalia S.P.A., che ha reso necessaria una rimodificazione della 181, che è intervenuto l'ultima rimodulazione il 9 giugno del 2015, con la circolare successiva del 6 agosto della scorsa estate. Anche in considerazione e tenendo conto delle difficoltà, le parti hanno ritenuto così di dover prorogare la scadenza prevista di ulteriori 24 mesi dell'accordo di programma, della cui scadenza definitiva è il 19 marzo 2017. In questo quadro la GMP ha presentato un programma di investimento che prevede l'utilizzo di risorse sia a valere sulla 181 per 16 milioni, sia sui programmi di ricerca e sviluppo di M.1 aprile 2015 per 20 milioni e 300 mila euro. Nello specifico va segnalato che il sito Umbro di Caifana sarebbe interessato alla produzione di nuovi frigoriferi per un investimento di 15,6 milioni di euro, in particolare l'investimento sarebbe riconducibile per 7 milioni sulla legge E3, sulla legge 181 e 8 milioni E3 sul DM ricerca e sviluppo. Ma ricordato che nel caso degli investimenti a valere sulla 181 non vi sono per le regioni oneri diretti in quanto le somme vengono detratte dalla dotazione iniziale di 35 milioni di euro. Per quanto attiene invece al DM 1 aprile 2015 la regione ha già reso disponibile le quota di sua aspettanza di confinanziamento pari a 1,79 milioni di euro. GMP ha comunque condizionato la possibilità di realizzare suddetti investimenti all'esito della concessione da parte delle banche di un finanziamento di 20 milioni di euro rimborsabili in dieci anni con due anni di preammortamento. Tutta questa storia fa sì che oggi siano attivi tre tavoli presso il Ministero. Un primo tavolo che si sta occupando della definizione del contenzioso all'esito del giudizio della Cassazione sulla vendita. Un altro tavolo che si sta occupando, cui partecipano sia le banche che la GMP che si sta occupando del piano industriale della GMP che all'esito di quanto detto al punto precedente dovrà trovare una sua definitiva fisionomia. Poi c'è il tavolo, Regione, Ministero dello Sviluppo Economico che sta lavorando su progetti pilota nella nostra regione che riguardano le due aree di crisi, area Merloni e area Terni-Narni per quello che riguarda la reindustrializzazione facendo leva sulla integrazione delle politiche industriali del Governo in sinergia con le politiche industriali della Regione. Nell'incontro tenutosi ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, presenti il Direttore Generale degli Incentivi di Dottor Zappino, il Direttore Generale per le Politiche Industriali Dottor Firpo e il Gabinetto del Ministro nel Dottor Gumina, sono state esaminate tecnicamente insieme alle Regioni Umbri e Marche le modalità per consentire il più celere avvio senza indugio dell'avviso per la presentazione dei programmi e progetti di investimento delle imprese a valere sulla 181 e sulle modalità di attuazione dei contenuti del DM 1 aprile 2015. In sostanza si sono messe a punto tutte le procedure tecniche per dare corso a quanto previsto negli strumenti che vi ho illustrato. Questo ci porterà entro al massimo il mese di dicendo, i primi giorni di gennaio, alla pubblicazione dell'avviso cui potranno partecipare ovviamente in base all'accordo di programma le imprese che intendono operare interventi di reindustrializzazione sulle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Merloni, alla luce dei nuovi indirizzi attuativi della legge 181 definiti con i provvedimenti del 9 giugno e la circolare del 6 agosto che vi ho illustrato testè. I rappresentanti del Ministero hanno proposto l'attivazione entro i tempi che vi ho appena illustrato con queste caratteristiche. Preselezione e definizione di una gradatoria provvisoria dei programmi di investimento sulla base degli impatti in termini di incremento dei livelli occupazionali generali dai programmi, quindi la rioccupazione come criterio varrà di più rispetto alle altre questioni che saranno poste a base dei programmi di investimento. Istruttoria tecnica sulla base dei criteri individuati dal decreto ministeriale di rimodulazione della 181, definizione di una riserva di 8 milioni e 7 che servono come contributo a fondo perduto per il programma di investimenti di JMP, perché su quell'area abbiamo investimenti di JMP e gli altri interventi di reindustrializzazione. Riparto programmato delle risorse residue che sono 26 milioni e 3, quindi 35 milioni meno gli 8 e 7, in pari quota tra le due regioni, quindi 13,150 per l'Umbria e 13,150 per le Marche, che costituiranno due riserve di fondi per progetti che verranno realizzati nelle regioni, come previsto all'atto integrativo dell'accordo di programma stipulato il 18 marzo 2015. Previsione, infine, ultimo criterio, previsione delle condizioni di premialità previste per le imprese che, a fronte di nuovi investimenti, prevedono la riassunzione di personale ex Merloni per una quota di almeno il 25% della loro previsione di incremento occupazionale. Su questo va detto che c'è una dote finanziaria messa a disposizione dalla Regione di circa 10 mila euro per addetto. Per quanto attiene invece all'altra gamba, cioè i progetti di ricerca e sviluppo a valere sul decreto ministeriale 1 aprile 2015, realizzati nell'ambito di specifici accordi relativamente al programma di investimenti proposto dalla JMP, si è convenuto, su proposta del Ministero, di procedere alla predisposizione di un testo dell'accordo, che sarà pronto nei prossimi giorni, ma potrà essere sottoscritto subito dopo e all'esito del pronunciamento della Cassazione previsto per i primi giorni di dicembre, anche alla luce dell'evoluzione del negoziato rispetto al finanziamento del programma di sviluppo di JMP da parte del sistema bancario. Quindi, in conclusione, i primi di dicembre saremo pronti col testo per l'utilizzo dei fondi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo della JMP, che potranno però solo essere utilizzati all'esito della sentenza della Cassazione, cui farà seguito un accordo estragiudiziale in cui si sta lavorando. Invece, dai primi giorni di gennaio al massimo, sarà aperto l'avviso sul quale faremo anche una campagna, come ci siamo impegnati prima, di promozione degli incentivi relativi alle aziende che intendono investire sull'area ex Merloni attraverso azioni di reindustrializzazione. Su questi ci sono non solo gli incentivi all'impresa, ma anche gli incentivi di carattere occupazionale che ho illustrato. Con questo daremo il via finalmente a un ITER che è stato lungo e complesso, non solo perché sono variati nel frattempo, rendendoli adeguati anche gli strumenti di carattere nazionale normativi, ma soprattutto perché vi è stato subentrato un contenzioso giudiziale che ha allungato i tempi, come ormai e non dalle cronache. Grazie. Bene, grazie Assessore Paparelli. Adesso ha chiesto di intervenire per illustrare l'emendamento alla mozione del Consigliere Smacchi e per la sua dichiarazione di voto il Consigliere Ricci. Grazie Signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Intervengo in maniera sintetica a nome del gruppo di centrodestra e liste civiche per determinare il voto favorevole alla mozione del Consigliere Smacchi, ringraziandolo anche per aver posto all'attenzione una tematica di rilievo regionale, ma che certamente assume anche un ambito ed una valenza nazionale. Per quanto riguarda l'emendamento abbiamo soltanto implementato aggiungendo che il settore manifatturiero oggi va reinterpretato alla luce di un nuovo manifatturiero che abbia in sé un maggiore contenuto in termini di innovazione tecnologica rispetto alle forme tradizionali di manifatturiero che sinora avevamo concepito e programmato anche in termini di marketing territoriale. Credo che la mozione presentata abbia diversi elementi molto positivi. Innanzitutto mantiene attivo il tema. La Giunta regionale sta facendo quanto possibile in relazione agli strumenti anche finanziari e sindacali che sono stati messi a disposizione anche dal quadro nazionale, oltre che da quello regionale. Ma certamente il mantenere una continuità di azione sul tema è un elemento positivo vista la rilevanza. Otto anni di complessità in quell'area e, come veniva ricordato dalla mozione Smacchi, di 700 famiglie interessate a questo sistema di sviluppo ci auguriamo, neo-industriale, neo-manifatturiero con l'innovazione tecnologica che ci auguriamo potrà interessare la stessa area. Certamente questo quadro si inserisce in un momento dove anche i nuovi piani industriali, le nuove azioni per trovare compimento debbono trovare un terreno fertile affinché anche nuove imprese possano svilupparsi. Da questo punto di vista il prossimo piano regionale dei trasporti, che credo l'Assemblea legislativa tra qualche settimana sarà chiamata a discutere, potrà determinare ulteriori valenze positive anche per quest'area, nonché la conclusione delle ormai a buon punto infrastrutture stradali della quadrilatero Umbria Marche S.P.A. potranno determinare una maggiore accessibilità dell'area. Certamente rilanciare, riqualificare un'impresa è difficile in questo quadro socio-economico, riqualificare e sviluppare un'intera area è ancora più complesso, ma questo parte innanzitutto dal trovare una maggiore accessibilità in termini di sistemi di trasporto e anche delle maggiori accessibilità in termini di innovazione tecnologica e mi riferisco alle reti tecnologiche perché questi due elementi di accessibilità, l'aspetto tecnologico informativo e quello dei trasporti sono determinanti, unitamente ad un quadro per quanto sarà possibile di semplificazione delle procedure. Gli imprenditori investono se sono piccoli i tempi di attesa per quanto riguarda le autorizzazioni, nessuna esclusa. E soprattutto mi auguro che anche da questa Assemblea legislativa, credo che in questa sessione vi siano anche elementi che riguardano riflessioni sul credito in Umbria, si investe in un certo territorio se è evidente la semplificazione, la riduzione dei tempi di rilascio quindi delle autorizzazioni, se ci sono infrastrutture quindi elevata accessibilità, se ci sono elementi legati all'innovazione tecnologica soprattutto nei termini informativi, ma il credito, il sostegno al credito è certamente un elemento fondamentale per ogni imprenditore che voglia unitamente alla sua impresa, alla sua idea, cercare di sviluppare un'area territoriale. Concludo con una terminologia che in queste giornate viene spesso citata, la pressione fiscale. Io mi auguro che il Governo nazionale, e voglio sottolinearlo, abbia cura di guardare ad un federalismo che definirei sostanzialmente responsabile. Cioè se il Governo vuole finanziare delle proprie azioni anche di defiscalizzazione, e mi riferisco alla prima casa sulla quale ovviamente siamo tutti d'accordo, che va alleggerita dalla pressione fiscale, se questa è una misura che il Governo decide, la deve finanziare con le proprie risorse, e cioè andando a risparmiare all'interno del proprio quadro dei ministeri in parte corrente e non finanziare questa azione togliendo alle regioni e togliendo ai comuni, perché nel fare questo si potrebbero determinare anche delle mancate azioni di investimento e di sviluppo nei territori, oltre che comunque arrivare ad un quadro fiscale che non diminuisce ma aumenta. Noi come centrodestra e liste civiche abbiamo presentato un atto per sollecitare l'Istat affinché sia calcolata una tassa integrata per famiglia. Si vede se le tasse aumentano o diminuiscono dalla somma di tutte le tasse che agiscono sulla famiglia, cioè la somma di quelle del Governo, di quelle della Regione, di quelle dei comuni e di quelle degli altri enti, perché solo in questo modo si determina un parametro oggettivo su quello che avviene in termini fiscali. Mi auguro che anche su questo il Governo centrale possa determinare qualche attenzione per quest'area e ringrazio il Consigliere Smacchi che ha, come dire, reso continuo questo tema e dovremo continuare a farlo in termini di Assemblea legislativa. Grazie. Grazie, Consigliere Ricci. A questo punto dobbiamo procedere con la votazione dell'emendamento integrativo alla mozione atto numero 196, emendamento che viene proposto appunto da Claudio Ricci e da Andrea Smacchi e che dopo l'ultimo punto del deliberato che termina con la parola infrastrutturale, aggiunge il seguente periodo. A sostenere progetti industriali in grado di rilanciare il settore manifatturiero innovativo nella fascia appenninica. Dichiaro aperta la votazione. L'emendamento è stato approvato all'unanimità con 19 presenti e 19 voti favorevoli. Adesso dobbiamo passare alla votazione della mozione emendata appunto con l'approvazione dell'atto che abbiamo appena fatto. Dichiaro aperta la seduta. la votazione è stata approvata. si conclude e la mozione è approvata con 19 voti favorevoli rispetto ai 19 presenti in aula. Abbiamo concluso la discussione di questa mozione. Chiede la parola il capogruppo del PD, Leonelli Giacomo. Sì, grazie Presidente. Io ho visto anche la presenza in aula comoditori del comitato della Valmenotre. Chiederei l'anticipazione delle due mozioni, cioè la mia e quella del consigliere Ricci, la mia che è stata inserita chiaramente ai sensi del regolamento interno e quella del consigliere Ricci sul tema, così che appunto si possa affrontare la discussione già ora. Quindi questa è la mia richiesta. Bene. Se qualcuno è in disaccordo è pregato di manifestare questa posizione rispetto all'anticipazione. Non vedo nessuna mano che si alza e quindi dichiariamo questa mozione anticipata. Sono... Allora, adesso presentiamo prima la mozione del consigliere Ricci. Sì, anche perché io ho avuto modo di fare interpellanza, quindi avrei voluto cedere il passo al consigliere Ricci. L'ho fatto io per lei. Consigliere Ricci, a lei la parola per la presentazione della sua mozione, che è l'oggetto numero... Adesso rispetto al nostro ordine del giorno... Allora, eh sì, abbiamo l'atto numero 183, oggetto numero 17, nuovo tracciato della strada statale numero 77 della Val di Chienti, adozione di interventi da parte della Giunta regionale ai fini della rapida realizzazione dello svincolo di scopoli in territorio del Comune di Foligno. La parola al consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Questa è una mozione numero 183, riferita allo svincolo di scopoli, che mi vede presentarla unitamente ai gruppi di centrodestra e liste civiche e che fa afferenza alla mozione numero 165 del consigliere Giacomo Leonelli, nonché alla stessa interrogazione 159 dello stesso consigliere regionale Giacomo Leonelli. Credo che, dopo la mia illustrazione, lo stesso consigliere regionale prenderà la parola per poi addivenire ad una proposta di testo unitario. Come noto, si tratta della strada statale 77 Val di Chienti, afferibile al Comune di Foligno e voglio ricordare come lo stesso Comune di Foligno, con la sua amministrazione comunale, abbia recentemente sul tema approvato una mozione unitaria. Credo che lo svincolo di scopoli di cui afferisce la mozione 133 sia fondamentale per l'accesso alla Valle del Menotre, nonché per l'accesso alle aree del Sellanese e dell'area della Val Nerina. Quindi è uno svincolo, può apparire apparentemente un completamento del progetto complessivo, ma ne determina un forte rilievo in termini di accessibilità. Ovviamente noi auspichiamo che il già dimostrato impegno della Giunta regionale dell'Umbria nel sostenere la possibilità di realizzare tale opera, tale svincolo, possa continuare. Da questo punto di vista l'Assemblea legislativa con questo atto vuole dare un ulteriore sostegno all'azione che dovrà svolgere il Governo della Regione Umbria, in particolare azione verso il Ministero per i beni, l'attività culturali e quello correlato con il turismo. È un'opera, come noto, la cui quadro di progettazione è stato presentato dalla quadrilatero Umbria Marche S.P.A. e il parere che è immerso non positivo, dopo peraltro una rimodulazione dello stesso progetto che aveva visto, come poi magari avrà modo di citare il Consigliere regionale Rometti, anche degli aspetti migliorativi dal punto di vista tecnico, però attualmente non ha visto la convergenza positiva dello stesso Ministero, in particolare sulle rampe di accesso e di uscita. Io mi limito soltanto a ricordare da questo punto di vista, solo per un attimo, riprendendo il mio ruolo di Ingegnere dei Trasporti, che le caratteristiche delle rampe di accesso e di uscita sono caratteristiche determinate da un quadro geometrico della stessa progettazione stradale, che afferiscono anche a norme di sicurezza, perché le stesse rampe devono essere percorse ad una determinata velocità e quindi devono avere caratteristiche geometriche determinate per legge e anche geometriamente definite da indicazioni matematiche che afferiscono a curve che vengono chiamate iperclotoidi a raggio variabile. Da questo punto di vista, quindi, non solo emerge una determinazione importante affinché lo svincolo possa essere realizzato, ma siamo anche di fronte a delle condizioni geometriche al contorno che ovviamente impegnano il progetto e anche l'incidenza sullo stesso ambiente, ma la impegnano per condizioni minime geometriche normative. Da questo punto di vista, io credo che poi la progettazione dovrà prevedere, ma mi auguro che tutto questo sarà inclusivo del raggiungimento positivo dell'obiettivo delle mitigazioni ambientali, anche mitigazioni legate ad una cura nei movimenti terra e nelle alberature, perché si sa, un'opera stradale impatta e entra armonicamente nel paesaggio, soprattutto dal quadro dei movimenti terra e dal quadro degli inserimenti ambientali, anzi del progetto del verde, come dovrei definirlo, che credo potrebbe essere una misura compensativa da proporre in sede di soluzione. Mi accingo a concludere la relazione dicendo che certamente la tutela è una parola, è una parola, ma dietro la tutela significa assumersi anche a volte la responsabilità di antropizzare armonicamente l'ambiente per consentire che la vita in quei territori possa continuare a svolgersi. Io mi sono sempre ascritto alla scuola architettonica urbanistica di Giancarlo De Carlo, che accettava la antropizzazione dei territori se questo, in maniera armonica nel rispetto dell'ambiente, produce una vera tutela, cioè il mantenimento della vita minima negli stessi territori, anche per consentirne un'adeguata manutenzione. Quindi spero che queste considerazioni di buonsenso, e anche legate ad un quadro normativo italiano, che sulla tutela, a mio avviso, a nostro avviso, dovrà un po' muoversi in futuro in un quadro europeo, dove sempre meno la tutela è affidata alle norme e sempre più la tutela è affidata ai metodi qualitativi di progettazione. Da questo punto di vista non voglio entrare oggi nel capitolo umbro della sovrintendenza regionale, che la stessa Presidente ha incisivamente posto all'attenzione del quadro regionale, noi abbiamo enucleato due mozioni come centrodestra e liste civiche su due quadri diversi per richiamare su questo un attenzionamento, perché ripeto, dobbiamo fare bene, dobbiamo tutelare l'ambiente, dobbiamo farlo con adeguata armonia e qualità, però la vera tutela alla fine è quella che comunque mantiene in un territorio, la vita mantiene in un territorio quel valore d'identità anche immateriale senza il quale lo stesso termine tutela non acquisirebbe un senso compiuto. Grazie. Grazie consigliere Ricci, la parola adesso al consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche consigliere Ricci per le puntualizzazioni tecniche, chiaramente ha messo a disposizione un po' il suo bagaglio professionale. Io non ho altrettante competenze sulle materie ingegneristiche, però credo che oggi si dia il giusto risalto a questa vicenda. Non possiamo banalizzare questo tema semplicemente come un tema di comodità o meno di qualche abitante o un semplice svincolo la cui presenza o meno non ha alcuna rilevanza, perché di rilevanza ce n'ha e ce n'ha e come. Ce n'ha innanzitutto per il lavoro che ha fatto la Regione in questi anni con il Governo, che è stato un lavoro alacre, puntuale, di grande partecipazione e di grande condivisione dei progetti, gliene va dato merito. Oggi, stamattina, l'assessore Chianella ci ha anche dato delle puntualizzazioni in più, per esempio il fatto che lo svincolo si troverebbe anche dopo 17 km di strada praticamente continua senza uscite, quindi ci sarebbe anche un tema di sicurezza di quello che poi è di fatto la Poligno Civitanova. Non so se siete stati tutti, mi rivolgo ai colleghi, in quel territorio, parliamo chiaramente della infrastruttura che tutti conosciamo come la Poligno Civitanova e quindi parte del quadrilatero. Ora però il tema perché assume questa rilevanza particolare e che credo e spero che tutto il Consiglio regionale oggi se ne faccia interprete, per questo anche nei giorni scorsi sono stato il primo ad auspicare la massima convergenza possibile su questo tema da capogruppo del Partito Democratico. Come abbiamo detto, lo svincolo di Scopoli di fatto sarebbe la rampa di accesso della Val Menotre alla infrastruttura. La Val Menotre è un territorio che ha all'indubbio valore e pregio naturalistico, paesaggistico, è un territorio che ha avuto una ferita profonda, direi profondissima, 18 anni fa con il terremoto. Lo svincolo di Scopoli rappresenterebbe l'unico collegamento di quella valle all'infrastruttura, sapendo che chiaramente è una valle che ha avuto la capacità di rialzarsi, che vuole svilupparsi, vuole crescere, vuole tornare a essere competitiva ovviamente sotto ogni profilo nello scacchiere regionale, ha anche tenuto conto dell'importanza dell'infrastruttura e quindi del collegamento, dell'apertura con le marche e delle potenzialità che sarebbero messe in campo. Perché guardate, in caso contrario noi prenderemo in giro quelle popolazioni, prenderemo in giro quei cittadini dove non realizzassimo questo svincolo. Li prenderemo in giro perché quando io leggo anche colleghi del Movimento 5 Stelle che parlano di vincolo paesaggistico, di paesaggio, ma siete stati lì. Io vi invito a farvi una gita la domenica dalla cosiddetta corta di Colle fino a Colfiorito. Perché parlare di vincolo paesaggistico sotto quei piloni sa di presa in giro per quelle popolazioni. Noi rischiamo veramente di prendere in giro i cittadini che hanno subito delle ferite importanti in questi anni, come quella del terremoto e che oggi si rimettono in discussione per far ripartire un territorio. Sanno bene che quella struttura è una struttura che comunque è fortemente impattante, ma c'è la capacità di stare in un quadro regionale, perché quella è un'infrastruttura che comunque può aiutare l'economia regionale, ma non vogliono essere semplicemente sfruttati. Perché se noi non realizzassimo questo svincolo, allora sì che quei cittadini potrebbero legittimamente dire di essere stati semplicemente sfruttati da quella infrastruttura senza alcun beneficio per le popolazioni. Allora io credo che, se questo è il ragionamento che ho sentito anche con buon senso da parte del portavoce dell'opposizione, questa non è una semplice battaglia per avere uno svincolo in più o uno svincolo in meno. Questa per come si sta materializzando è una battaglia di dignità vera della città di Foligno, dei territori della città di Foligno, ma della regione tutta. Una regione che sa bene come tutelare il paesaggio, ma che altrettanto vuole anche crescere, vuole svilupparsi, vuole fare un salto di qualità, per come abbiamo detto tante volte. E allora io chiedo veramente la massima convergenza possibile su questo atto, perché è un atto che ridarebbe dignità all'Umbria, ridarebbe forza ad un territorio e in mancanza del quale, nella massima fiducia ovviamente della Giunta rispetto a quelli che saranno i tavoli nazionali. Noi rischieremmo di dare un messaggio devastante ai cittadini dell'Umbria, devastante a quel territorio che dopo le ferite del 1997 oggi subirebbero un altro grande schiaffo, questa volta non ad opera ovviamente della natura, ma ad opera dell'uomo con un'infrastruttura che non farebbe altro che appunto sfruttare ancora di più quel territorio senza alcun beneficio per quei cittadini. Quindi chiedo per questo che ci sia la massima convergenza possibile su questo atto. Grazie consigliere Leonelli. Adesso la parola va al consigliere Liberati. Premesso che io non sono di quelle parti, grazie Presidente. Io sto a quelle che sono al momento le regole. Non è stato il Movimento 5 Stelle a esprimere la posizione contraria, ma è stato lo Stato, scusate la ripetizione lessicale. Quindi o si trova il modo per superare l'ostacolo che viene frapposto, che non è quello di rimuovere i sovrintendenti, e è un modo evidentemente di soluzioni ingegneristiche, di soluzioni che costano forse di più, oppure al momento noi come gruppo, ascoltati anche i portavoci locali e parlamentari, non possiamo esprimerci favorevolmente su questa mozione. Non c'è quindi nessuna voglia di offendere nessuno, di ingiuriare nessuno, ma noi dobbiamo rimetterci alle regole. Poiché qualcuno le regole le fa rispettare, forse si dice che c'è troppo rigore. Benissimo. Ma oggi c'è questo, superintendente, noi non possiamo bypassarlo e dobbiamo, credo, fare in modo di trovare un entanto cordial che può essere appunto non soltanto una soluzione come quella prospettata dai nostri portavoce, ma una soluzione nuova ingegneristica che consenta un quadrifoglio nuovo o non so cos'altro tale da essere meno impattante. E poi vorrei aggiungere un altro elemento. Qui stiamo a fare talvolta un lavoro parlando, parlando, ma venerdì scorso alle audizioni col capo compartimento Anas non c'era quasi nessuno della maggioranza, se non il consigliere Smacchi e poi Giacchieroni. Allora io sollecito tutta la maggioranza ad esserci nei momenti in cui la tecnica viene ad essere nucleata e si possono fare domande e capire meglio. Io non è che voti a favore oggi perché ci sono cittadini che lo chiedono, o soltanto per questo motivo. Io voto a favore se la sovrintendenza, se lo Stato mi dice che va bene, non ci sto ad innescare i conflitti con lo Stato. Grazie. Grazie consigliere Liberati. La parola al consigliere Rometti. Io ringrazio i consiglieri Leonelli e Ricci per aver presentato questa mozione perché credo sia importante oggi il pronunciamento dell'Assemblea legislativa perché questa vicenda ha veramente del paradossale. È una vicenda che ha, che siccome parliamo di distacco della politica, devo dire che queste sono quelle vicende che alimentano la distanza dei cittadini con la politica. Perché qui noi veniamo da una storia, Andrea, Liberati, che è quella di una comunità che innanzitutto accetta una soluzione minimale. Non uno svincolo ma un semisvincolo proprio per avere attenzione rispetto all'impatto di una zona particolare, la Valle del Menotre. Teniamo conto che lì è passata una strada a quattro corsie con tanti svincoli, con ventiquattro gallerie e quindi avere riflettori solo su una vallata di un ambito, di un territorio così vasto, come dire, sembra un po' un'esagerazione dal mio punto di vista. Dicevo a del paradossale perché io ricordo alcune vicende avendole seguite di incontri fatti nel territorio, di incontri fatti nella sede della regione con la sovrintendente di allora che si coordinava con il Ministero. Non è che la sovrintendente allora di bene parlava a nome suo o di testa sua, aveva comunque rapporti e sembrava che questi aggiustamenti che la sovrintendenza aveva chiesto, che poi sono diventate modifiche progettuali avvicinando il raggio di curvatura alla sede stradale, fossero sufficienti per mandare avanti il progetto. Io ho partecipato insieme a Perosino a una riunione della Commissione Consiliare al Comune di Foligno, non so se c'era qualcuno di voi, dove di fatto, e mi dispiace anche nei confronti dei cittadini perché ci avevo messo la faccia, dove di fatto si disse andiamo avanti perché le cose sono risolte. Adesso, dopo qualche mese, tornare a parlare un'altra volta di questa vicenda perché qualcuno, siccome cambiano le persone, cambiano i pareri, non va bene, non va assolutamente bene. Quindi io penso che oggi un pronunciamento largo del Consiglio regionale può essere utile a far avanzare un progetto che è importante, come ha detto Leonelli per quel territorio, comunque c'è l'accesso dalla Valnerina, ci si collega meglio con Foligno, quindi l'ospedale, quindi le funzioni importanti che ha una città come Foligno e che invece purtroppo quei territori non hanno, c'è tutto il discorso che possiamo fare sull'attrattività turistica. Io al di là di cacciare le persone liberate, qui nessuno vuole cacciare nessuno, però i rapporti fra le istituzioni debbano essere corretti e sinceramente su questa vicenda io i rapporti istituzionali corretti non li ho visti. Nevi. Grazie Presidente, ma non volevo intervenire, però le parole liberati mi hanno suscitato un pochino di voglia invece di dire qualcosa, perché il consigliere liberati per la prima volta dice una cosa che è in controtendenza rispetto a quelle che ha detto fino a poco tempo fa, perché quando la sovrintendenza autorizza cose che non ci piacciono bisogna prendersela con la sovrintendenza, quando non autorizza cose allora va bene. Il partito del no a tutto è quello che distrugge la nostra regione, è quello che ci impedisce di fare delle cose che non sono devastazioni dell'ambiente, queste cose le abbiamo sentite anche per quanto riguarda altre vicende. Io penso che noi dobbiamo rivendicare l'autonomia anche del territorio, collaborare con le istituzioni statali, rispettare l'ambiente al 100% per cercare di fare in modo che le infrastrutture si inseriscano al meglio possibile, come mi pare proprio questo caso, ma certamente dobbiamo garantire che l'Umbria esca da questo isolamento tremendo che la porta a impoverirsi sempre di più. Allora io spero che oggi si arrivi a un pronunciamento molto largo, perché come ha giustamente detto Rometti, questa ha una storia. Io penso che è proprio questo che scaccia gli investitori dal nostro Paese, cioè che qui basta che cambia un sovrintendente, cambia l'idea che lo Stato ha rispetto a un'opera che era stata decisa insieme allo Stato e questa è la cosa grave, che mi meraviglia che una forza politica non rimarchi questo aspetto. Per me è assurdo questo, cioè il solo pensare che cambiare un funzionario dello Stato, un burocrate dello Stato, cambia l'idea dello Stato, è la dimostrazione che non è uno Stato serio e noi ci dovremmo arrabbiare rispetto al fatto che qui siamo in presenza di uno Stato poco serio. Questo è il punto politico, non mi interessa dei scopoli, il punto è che qui ci vuole una certezza di tempi, di realizzazioni, di indicazioni, non è che qui cambia governo, già cambia governo, cambia idee, quello ci sta, ma qui è un burocrate, è un funzionario, un addetto dello Stato, non un politico che si assume la responsabilità di dire no, ho cambiato l'idea, cambiamo lo svincolo. No, qui è un burocrate, cioè questo la dice lunga, caro consigliere Liberati, sulla capacità di incidere sullo sviluppo del nostro Paese. Io ho parlato un giorno e veramente lì mi sono preoccupato, ma penso che dovremmo preoccuparci tutti con uno che mi dice, noi, era una grande impresa multinazionale inglese, noi in Italia non ci investiamo, abbiamo tre impianti, uno al nord Italia, uno al centro Italia e uno al sud Italia, abbiamo tre tribunali che dicono tre cose diverse. Allora, noi bisogna che su questo un pochino, secondo me, ci indigniamo e dall'Umbria, poi non è che qui siamo tutte streghe cattive, riprendendo, adesso la Marini è diventata la strega cattiva che impedisce chissà quale cosa, insomma, mi è diventata pure simpatica, nel senso che quell'articolo, quell'articolo sul... No, vabbè, no, simpatica politicamente, dico, no, simpatica umanamente lo è, ma simpatica umanamente. Voglio dire, cioè qui stiamo sognando, qui un burocrate, ripeto, di Stato, prende e blocca tutto, blocca qualsiasi cosa decisa dalle autonomie locali, dai cittadini che sono per la prima volta, qui oggi abbiamo un comitato a favore, cioè una roba... Sono andato da loro prima per dirgli, ma veramente siete a favore? Perché qui in genere arrivano tutti i comitati contro, oggi abbiamo un comitato a favore e voi che fate? Siete d'accordo su questa follia assoluta, quando su altre cose attaccate a testa bassa dicendo che vanno lapidati in piazza perché hanno concesso l'autorizzazione a fare cose bestiali, inaudite, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che questa sia l'occasione invece affinché dal Consiglio regionale dell'Umbria si levi una voce chiara, forte, in direzione dello Stato e poi, Presidente Marini, cioè il Ministro Franceschini, cioè dove sta? Cioè questo Marziano, dove sta? Questo è del suo partito e qui torniamo invece a un'accusa politica forte, cioè qui c'è un governo, Leonelli, tu che sei amico di Renzi, diciamo dici, dici, con lui non ci ho parlato mai, tu dici di essere amico di Renzi, che lo stia, cioè ma qui stanno, state bloccate, siete voi che lo bloccate, cioè siete voi la responsabilità politica, è del PD se si blocca Scopoli, se si blocca, sì Presidente, perché questo funzionarietto dello Stato dipenderà pure da qualcuno, no? Che è il Ministro. Allora, su questo io penso che nella mozione, se la approveremo, dovremo pure scrivere a questo benedetto Ministro, non so di quale corrente sia, Consigliere Smacchi, forse lei ci può aiutare, che è abbastanza attento alla geografia politica interna al PD, ma insomma vanno risolte queste cose, bisogna dare una risposta, perché sono anni, l'ha detto Rometti, no? Questo è il PD, è la schizofrenia di un partito che purtroppo non conta nulla a livello nazionale, questo alla Marina invece, questa è la critica che l'opposizione fa alla Marina e su questo io spero che oggi si levi una parola chiara e forte in direzione anche senza paura, non ci dovete aver paura di attaccare Franceschini, capisco che è una persona autorevole e importante del partito, capisco che qualcuno può pregiudicare anche la carriera politica, ma bisogna farlo, bisogna farlo, se a posto di Franceschini c'era Bundi, che sta con voi, fate gli scherzi, era stato lapidato sulla pubblica piazza, allora prendiamo coraggio, se volete veniamo anche noi da questo marziano di Franceschini a dirgli che bisogna che caccia via quelli funzionari dello Stato, burocchia dello Stato che cambiano idea a seconda così di quello che gli viene in mente la mattina quando si svegliano, ecco questo è il punto fondamentale che a noi interessa, grazie. Bene, non ho altri interventi da parte dei consiglieri, quindi passo la parola alla Presidente Marini. Sì, grazie. Le emozioni dei consiglieri regionali Leonelli e Ricci ci permettono, e anche se ruberò un po' di tempo, però ritengo utile per il Consiglio regionale, per l'Assemblea legislativa e anche per il Comitato dei cittadini, per gli amministratori del Comune di Foligno e per la stampa, credo fornire, perché poi in maniera dettagliata non è stata fornita un'informazione politica e tecnica del percorso che riguarda la vicenda ultima dello svincolo, ma che parte all'inizio degli anni 2000. E rispetto alla quale, e quindi nel fare alcune considerazioni risponderò anche ai consiglieri, sono soprattutto le mutazioni di pareri già espressi dalle articolazioni del MIBAC, del Ministero Bene e Attività Culturali, ad essere il tema, e poi dirò cosa ho rappresentato al Governo e anche al Ministro Franceschini. Credo che sia utile, però, una ricostruzione che fornisce attentamente tutte le informazioni e che dimostra l'oggettività di uno svincolo intanto a servizio della sicurezza stradale, come sottolineato in relazione tecnica ad ANAS, e della sicurezza in materia di protezione civile. Le informazioni che fornirò e di cui poi avranno anche vantaggio ovviamente le popolazioni che sono residenti nella valle, ma i primi due punti sono centrali nelle motivazioni tecniche. Vorrei ricordare che stiamo parlando di una infrastruttura di interesse nazionale, che è stata sempre nelle competenze nazionali, non stiamo parlando di viabilità regionale. negli anni 90, su iniziativa di diversi soggetti, era prevista un'iniziativa volta ad assicurare collegamenti tra le regioni Umbria e Marche per superare l'Appennino. E prima del sisma del 97, in possesso delle amministrazioni pubbliche italiane, vi erano ben tre progetti. Uno, di iniziativa privata, come allora a volte accadeva, del professore ingegnere Sant'Agata, che prevedeva il collegamento di Colfiorito, Foligno e l'attraversamento della valle del Menotre al ridosso della frazione di Pale, per chi conosce, qui molta gente conoscono i territori. Un secondo progetto di Italeco, che era una società delle partecipazioni statali del gruppo IRI, a cui spesso il Governo e i Ministeri affidavano le progettazioni delle infrastrutture di interesse nazionale. Ed era un'ipotesi per collegare Colfiorito con la Flaminia, passando per la frazione di Capodacqua. E un terzo progetto della regione Umbria degli anni 90, che era volto ad affrontare il tema della viabilità delle cosiddette trasversali, assenti, nella valle del Menotre con passaggio verso Colfiorito, vicino alla frazione di Cifo. Se non sbaglio si chiama così. Bene, mi confermate. Poi è accaduta una cosa non secondaria, questo lo dico anche per le considerazioni approssimative che ho sentito fare dal consigliere Liberati, che forse è giovane, ma gliela vorrei ricordare. Io non sono una scienziata, ma sono rispettosa e lei dovrebbe rispettare tutto il Consiglio regionale. No, lo rispetta lei. Sì, sì, lei lo rispetta. Dopo il sisma del 1997, in occasione del sisma, i cittadini lo sanno bene, le zone che erano attraversate dall'allora strada statale 77, che è sempre stata una strada statale, e lo voglio sottolineare, oltre ad aver danneggiato pesantemente i centri e i nuclei, aveva prodotto il sisma la chiusura della viabilità. Per oltre 15 giorni di questa che era un'arteria nazionale, per cui fu difficile anche accedere alle zone terremotate per gli interventi di protezione civile che bisognava fare, e in quell'occasione il Governo stanziò immediatamente 100 milioni di euro per intanto permettere, e allora si decise di concerto a ANAS e Regione Umbria, di fare un primo intervento migliorativo del tracciato esistente che aggirasse di fatto le interruzioni. E furono fatti anche delle varianti ai centri abitati nella viabilità di Leggiana e Colfiorito, e poi successivamente con le gallerie di Casenove e di Serrone, che erano tutti centri, credo chi ha seguito il sisma del 1997, anche un Umbro che guardava semplicemente la televisione, sa che stiamo parlando del cuore dell'area purtroppo del terremoto. Furono utilizzati solo una parte di queste risorse, dei cento milioni stanziati dal Governo, ma fu evidente che il tema che la Regione sottoponeva da tempo ad ANAS di migliorare i collegamenti dell'Appennino Umbro-Marchigiano divennero evidentissimi anche per i fatti che il sisma avevano determinato e che determinarono anche una preoccupazione sul versante della sicurezza della viabilità in un territorio ovviamente a rischio sismico come da carta geologica nazionale, che quindi dovremmo sempre tenere presente. La Regione, l'intervento stanziato, produsse un risparmio di 46 milioni di euro, cioè non un risparmio. Non si utilizzarono i 100 milioni, ne rimasero 46 e quando con la legge obiettivo del 2001 si decise di fare le opere stradali di interesse nazionale, voglio ricordare che nel 2001 eravamo nel cuore dei cantieri del terremoto e sarebbe stato folle che la Regione non sottoponesse all'attenzione del Governo nazionale che tra le strade di interesse nazionale ci dovevano essere le trasversali dell'Appennino Umbro Marchigiano, la Perugia Ancona da un lato e la Foligno Civitanova Marche dall'altro. La Regione decise di assegnare queste risorse residue 46 milioni alla nascente operazione di finanziamento delle nuove infrastrutture. A questo punto parte l'operazione che è conosciuta come quadrilatero dal nome della società, che vorrei dire ad oggi riassorbita da ANAS e torna ad essere fino in fondo una società di ANAS superando la forma societaria, così siamo anche precisi, con un'uscita anche delle due regioni Umbria Marche che abbiamo sempre rappresentato più o meno il 4%, e si passa alla progettazione definitiva della strada statale 77 come della 76. Nel frattempo nel lato marchigiano la Regione Marche aveva già realizzato pezzi di superstrada a quattro corsie, chi la percorre lo sa, che arrivavano più o meno all'altezza di Ponte Latrave che è a ridosso di Muccia. Quindi quando i progettisti sono partiti hanno cercato di affrontare il tema della quattro corsie tenendo conto di quello che era accaduto nel frattempo. E parte la progettazione. E si recupera il progetto iniziale di questo ingegner Sant'Agata che aveva immaginato il collegamento col fiorito Foligno. Ora le cose che dirò saranno molto importanti sui pareri ambientali, chi li ha dati a tutelare la valle del Menotre, sarà molto interessante. Così abbiamo tutti le stesse informazioni. questo attraversamento in parte in galleria. L'attraversamento della valle del Menotre era previsto tra le frazioni di Pale e Ponte Santa Lucia ed era previsto uno svincolo a quadrifoglio anno 2003 con il raccordo, quindi a quadrifoglio in entrambi i lati, il raccordo con la strada statale esistente a servizio. Erano previste anche alternative progettuali al tracciato. Si avvia la fase partecipativa sul progetto. L'unico momento in cui la Regione e gli enti locali hanno potuto esprimere il loro parere, osservazioni, proposte, è stato al momento, essendo legge obiettivo, quindi un'infrastruttura di interesse nazionale non progettata dalla Regione. Vi dirò cosa è espresso il Comune di Foligno e la Regione Umbria, così vediamo chi sta tutelando l'ambiente e il paesaggio in questa Regione. Nella sede di valutazione della pronuncia di compatibilità ambientale, a fronte dei pareri favorevoli del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Foligno, con una nota del 20 gennaio 2004, rappresentava che intendeva tutelare il luogo dove è previsto lo svincolo, sia per la vicinanza del Menotre, che è un sito di interesse comunitario SIC, sia per la presenza archeologica. Il Comune di Foligno. La Regione dell'Umbria, convocata di esprimere il parere favorevole al progetto della strada statale 77, nell'esprimere parere favorevole, chiese di intervenire sulle questioni di compatibilità ambientali sollevate dal Comune e di trovare altre soluzioni tecniche alla prima ipotesi progettuale, su cui ricordo il Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali avevano dato parere favorevole. Quindi chi solleva dubbi sul primo progetto a tutela delle compatibilità ambientali sono il Comune di Foligno e la Regione, che fa proprio il parere del Comune. E solleva la Regione un secondo punto, vorrei ricordarlo, siamo nel 2004, così per memoria di tutti noi, e la Regione solleva una seconda punto. Eravamo nella ricostruzione e ci ricordavamo bene cosa era accaduto nel 1997, ritenendo che era opportuno per motivi di sicurezza stradale e per garantire le operazioni possibili e eventuali di protezione civile, che non fosse possibile avere un tracciato di 17 chilometri senza nessuno svincolo, anche per garantire sicurezza agli abitanti della valle. Cioè il tema non è soltanto la viabilità e che comunque non è un tema secondario, perché facciamo un'infrastruttura, un territorio subisce anche i disagi di avere una quattro corsia che gli sta sopra e gli passa sopra la testa, magari si provano a cogliere anche alcune opportunità e alcuni vantaggi, quindi non è negativo. Ma è il tema che è stato sollevato e che Anassage aveva già posto dopo l'esperienza del terremoto. Il Cipe, che è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, accoglie la richiesta della Regione e fa proprie le osservazioni della Regione e dice successivamente di affrontare il tema del tracciato. La sovrintendenza archeologica dell'Umbria si pronuncia successivamente e dice che lo svincolo ipotizzato tra Pale e Ponte Santa Lucia non va bene, perché sono presenti i resti di un santuario pre-romano e quindi c'è un'area archeologica di interesse generale da tutelare, motivo per il quale viene rivisto lo svincolo. E su richiesta del Ministero per i beni culturali si sposta lo svincolo da Pale verso Monte nella frazione di Scopoli. Quindi è il MIBAC che ci dice guardate a tutela è opportuno che non lo fate così a valle, adesso non mi vorrei sbagliare ma credo che sono esatta nelle precisazioni, ma lo fate un po' a monte verso la frazione di Scopoli. Individuato per l'attraversamento della valle del Menotre mi presenta un minore impatto, non si hanno presenze archeologiche e quindi il MIBAC si pronuncia in maniera vincolante e dice peraltro di far proprie anche le osservazioni del Comune di Foligno e della Regione Umbria spostando lo svincolo a Monte. ANAS interviene di nuovo e dice confermo la necessità di avere uno svincolo per ragioni di sicurezza, anche perché gran parte di questi chilometri sono anche in galleria e quindi ANAS dice, come deve fare ANAS, qualora io debba intervenire per qualunque motivo di sicurezza sulle caratterie, incidenti stradali, chiusure eccetera, è opportuno avere degli svincoli di vicinanza e non lasciare più di 20 chilometri che peraltro quasi nelle autostrade non ci sono, giusto nelle autostrade ci sono queste distanze tra uno svincolo e l'altro ma nelle superstrade basta percorrere la E45 e contare gli svincoli che noi abbiamo da Orte a Città di Castello, tanto per fare una considerazione anche tecnica. E quindi si comincia a spostare il tracciato a Monte di circa 1-2 chilometri. Il previsto svincolo nel frattempo parte tutta la quadrilatero, essendo finanziato una parte la società quadrilatero decide di lasciare la progettazione dello svincolo a sé stante facendo camminare intanto la parte del tracciato principale e riavviando la progettazione dello svincolo. Nel frattempo vengono reperite le risorse, veniamo ai giorni nostri più recenti, ma la cosa più interessante è che la società quadrilatero, quindi non la regione, non il comune di Foligno, ma la società quadrilatero che è la titolare del progetto, quindi noi stiamo discutendo di un indirizzo politico, perché il parere non è stato dato alla regione dell'Umbria, al comune di Foligno, al progettista che è in questo caso a chi rappresenta l'attuazione dell'opera. La società quadrilatero a seguito di questo inizia, dopo il parere contrario rispetto allo svincolo precedente, quella che si chiama una progettazione condivisa e insieme si svolgono incontri per definire la progettazione tra società quadrilatero, soprintendenza dell'Umbria e regione dell'Umbria e si recepiscono nella progettazione tutta una serie di indicazioni che la soprintendenza dell'Umbria dà, sia nei materiali e sfido in tutta Italia andare a vedere un progetto analogo di svincolo di una superstrada per i materiali che sono previsti, non più il cemento, la copertura in pietra, e si concorda per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale di non avere più il doppio svincolo a quadrifoglio, come si dice, ma un unico svincolo proprio perché si fa forza dell'esigenza di sicurezza nella direzione foligno col fiorito per intenderci e non viceversa, quindi riducendo l'impatto. Nel frattempo, mentre facciamo questa progettazione, vorrei sottolineare per chi non è andato, forse in Consiglio regionale non tutti ci sono andati, ma se uno va e i cittadini che ci vivono lo vedono, che nel frattempo per fare quella superstrada, noi abbiamo fatto dei tracciati di cantiere, abbiamo realizzato delle strade di cantiere che hanno già avuto il loro impatto, certo sono strade di cantiere, sono più strette di una superstrada, ma hanno fatto il tracciato e dato che viene percorso da mezzi che realizzano i piloni, le cose, sono strade anche abbastanza robuste, per cui il tracciato viene progettato immaginando anche di recuperare l'impatto delle strade di cantiere, come suggerito anche dal Comune di Foligno, quindi riducendo ulteriormente impatti ambientali su un territorio di questo tipo. Si reperiscono con lo sblocca Italia le risorse per lo svincolo, a quel punto si può ripresentare il progetto definitivo e qui viene, quindi arriviamo al momento in cui si presenta al MIBACT, per la compatibilità ambientale, di un progetto condiviso con il Ministero nella sua articolazione, che vorrei dire, a noi ci interessa il Ministero nella sua articolazione, perché il Ministero non è fatto dai singoli funzionari, ma esprime un parere tecnico del Ministero, il più possibile oggettivo, che non dovrebbe essere subordinato, non è che la valutazione di impatto ambientale per un sovrintendente è impatto ambientale, per un altro non lo è, perché loro stanno esprimendo un parere tecnico, in continuità amministrativa, tenendo conto dei costi degli oneri della pubblica amministrazione e i maggiori oneri sono già recepiti dal fatto che lo svincolo ha delle caratteristiche da svincolo da centro storico di città supervincolate, non da svincolo di una superstrada. Quindi vengono raccolte tantissime indicazioni, dato che nel frattempo, mentre è in corso il parere, questa è la gravità, è in corso il parere, avviene l'avvicendamento del sovrintendente dell'Umbria, si fa finta che tutto quello che si è fatto in dieci anni e su cui c'è un lavoro della sovrintendenza archeologica dell'Umbria, del MIBACT, della sovrintendenza dell'Umbria, beni ambientali e culturali della Regione, dei soldi anche della quadrilaterra, lo che vorrei ricordare sono i soldi dei cittadini italiani, che non sono tanto i soldi dell'opera, ma sono anche quelli della progettazione, perché io voglio capire perché noi dobbiamo autorizzare che si fanno tre, quattro, cinque, sei, sette progetti come se questi non stassero, perché è un'infrastruttura, ci sono le relazioni tecniche, le relazioni geologiche. E lì viene il parere negativo, rispondo anche a Nevi, fatto con un decreto, quindi con un'opera molto particolare, con un decreto a firma diretta del Ministro, e per questo l'interlocuzione non è la sovrintendenza dell'Umbria, ma credo che sia giustamente il Governo e il Ministero, e per quanto riguarda la Regione è il Ministro, sia dei beni ambientali e culturali che ho incontrato, a cui ho rappresentato l'interesse politico generale di questa comunità, a vedere conclusa l'opera, a vederla conclusa nei tempi congrui, nel rispetto dei fondi che avevamo programmato e anche rappresentandogli forse una cronistoria dettagliata che non gli doveva rappresentare il Presidente della Regione Umbria, ma una cronistoria dettagliata che il primo che avrebbe dovuto rappresentare era la stessa sovrintendenza dell'Umbria, che anche se gli sorgevano dei dubbi, avrebbe dovuto avere il dovere morale e civile di raccontare come questa progettazione era partita 15 anni prima e quali erano stati gli argomenti adotti che hanno portato ad arrivare a quel punto di cui attore protagonista è stato soprattutto il Ministero per i beni ambientali e culturali. Nella Regione e nel Comune, che vorrei sottolineare nella fase iniziale, sono gli unici che danno le osservazioni ambientali. E questo è il motivo per il quale abbiamo formalmente, e per quanto mi riguarda, l'interlocuzione non è con il sovrintendente dell'Umbria, né tantomeno con il sovrintendente, di cui personalmente non mi è piaciuta una telefonata avuta, ma questo lo lascio alle mie valutazioni individuali, ma di confrontarmi, come è giusto che sia, il Presidente della Regione con i due Ministri competenti. E quello che dobbiamo chiedere, quindi ringrazio i consiglieri, ma credo che questo dettaglio che ho fatto sia molto utile anche per come noi rappresentiamo la posizione della Regione tutti, nell'interesse generale, sia quella che i due Ministeri, avendo dei poteri decisionali anche rispetto alle istruttorie tecniche, si assumano tutti i poteri decisionali che sono in capo al Consiglio dei Ministri e ci permettano di portare a conclusione la progettazione e la realizzazione del cantiere e lo rappresento, come ho detto al Ministro, anche nella veste di autorità della protezione civile della Regione, nel territorio più sismico che noi abbiamo, che è il nostro appennino. Credo che questo tema sia più che sufficiente a giustificare e a dire, e qui chiudo, che questa Regione, dove qualcuno si alza e ci dà dei cementieri, questa è una Regione che l'intero territorio regionale è occupato per alpena al 4%, tra case, costruzioni, centri storici di valore, strade, infrastrutture, a fronte di una media nazionale del 7% e a fronte di Regioni che hanno occupato il 10 o il 12% e che magari ci vogliono dare le lezioncine. Allora, se questa Regione è così conservata, lo deve a cittadini responsabili, a progettisti che gli vogliono bene, ad imprese che conoscono il loro limite e amministratori pubblici che non stanno al servizio di nessuno che non della loro comunità regionale. Grazie. Grazie, Presidente. È stato presentato quindi un emendamento sostitutivo delle due mozioni, per cui vi chiederei una pausa di 5 minuti, distribuiremo il nuovo emendamento, dopodiché riprendiamo la seduta con la votazione. Grazie. 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 Grazie a tutti i consiglieri. La copia è stata distribuita all'emendamento interamente sostitutivo delle mozioni atti numero 183 e 165 rispettivamente del consigliere Ricci e del consigliere Leonelli. Presa visione quindi di questo emendamento completamente sostitutivo, passiamo alla votazione dello stesso. Dichiaro aperta la votazione. Premesso che lo svincolo di Scopoli, consistente nella realizzazione delle rampe di accesso e uscita che collegherebbero la Val Menotre con la statale 77 della Val di Chienti, così come progettato e modificato in base alle osservazioni della sovrintendenza regionale, è un'infrastruttura di rilevanza strategica al fine di interrompere l'isolamento della zona montana interessata, che i territori coinvolti sono di indubbio valore naturalistico e paesaggistico, e proprio attraverso la realizzazione dello svincolo in oggetto potrebbero trovare nuovo slancio verso la crescita e una nuova fase di sviluppo economico, turistico e culturale, che il Consiglio Comunale di Foligno ha approvato all'unanimità una mozione concernente l'argomento in oggetto, considerato che la costruzione dello svincolo di Scopoli, da realizzare con caratteristiche geometriche conformi alle normative stradali, è fondamentale per l'accesso alla valle del Menotre, andando conseguentemente a valorizzare le zone del Sellanese e della Valnerina, considerato che, senza la realizzazione di tale opera, la zona interessata rischierebbe di andare incontro ad un progressivo isolamento e abbandono, visto che lo svincolo rappresenta l'unico collegamento viario attraverso il quale fa ripartire il rilancio di quel territorio, che lo svincolo può ben considerarsi non solo come opera essenziale in funzione delle esigenze di mobilità del territorio regionale, ma anche come elemento fondamentale di sicurezza in un tratto stradale di molti chilometri, costituito da viadotti e gallerie che, in assenza di questo svincolo, non avrebbero alcun altro punto di ingresso e uscita dall'infrastruttura stradale di nuova costruzione, evidenziato che, da quanto emerge a seguito di atti prodotti dai Ministeri competenti e, in particolare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'opportunità della realizzazione dello svincolo sarebbe pergiudicata con l'ovvia conseguenza che l'area della montagna Folignate si troverebbe ad essere semplicemente sfruttata dall'infrastruttura, senza alcun vantaggio diretto per i cittadini, i residenti e per le attività del territorio. Tutto ciò premesso e considerato, si impegna la Giunta 1. ad adottare ogni iniziativa finalizzata al superamento dei provvedimenti richiamati in premessa, sollecitando i Ministeri competenti e, in particolare, quello dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha espresso parere tecnico-istruttorio e negativo, al fine di scongiurare la mancata realizzazione dello svincolo di scopoli, interessando del problema anche il Ministro. 2. a riferire sugli esiti degli incontri all'Assemblea legislativa, per gli atti conseguenti a tutela, anche normativa, delle opportunità di un'area fondamentale dell'Umbria. Chiede di intervenire il Consigliere Liberati. Sì, dunque, come Gruppo Movimento 5 Stelle ci asterremo. Vorrei segnalare che l'eccesso di zelo, che evidentemente può essere considerato indigeribile, che il sovrintendente sta dimostrando in questi mesi, deriva anche, probabilmente, dal fatto che ci sono processi in corso, che ci sono funzionari sotto processo per atti contrarie a dovere di ufficio, e quindi è bene considerare che ci sono anche queste situazioni che portano, evidentemente, i sovrintendenti a essere più attenti, a essere estremamente rigorosi. Il Movimento 5 Stelle si astiene perché attende che non ogni iniziativa, non vogliamo che ci sia la via politica che bypassa quella tecnica, ma che si trovi una soluzione tecnica sostenibile ambientalmente, e è possibile mettendoci ovviamente i soldi, per arrivare a quelli che sono obiettivi comuni. Grazie. Bene, preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Liberati per il Movimento 5 Stelle, dichiaro aperta la votazione. Ok, chiudiamo la votazione. Presenti 18, favorevoli 16. Non ci sono contrari, ma due astenuti. Quindi l'atto è approvato. Passiamo ora all'oggetto numero 9 del nostro ordine del giorno. Si tratta di una proposta di risoluzione presentata dal Consigliere Mancini, che ha per oggetto l'adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell'istituzione in Umbria di un nucleo cinofilo dell'arma dei Carabinieri. Prego, Consigliere Mancini. Grazie, Presidente. Oltre il lavoro, oggi la viabilità, parliamo anche di sicurezza, altro tema molto importante, molto sentito dai nostri concittadini. La presente risoluzione è stata discussa in prima commissione, competente in materia. La sicurezza è stata già recentemente trattata in prima commissione. Ringrazio ovviamente il Presidente Smacchi, il Consigliere Guastichi, Chiacchieroni, Biancarelli, Lionelli, Nevi e la Consigliere Carbonari. In pratica cosa chiediamo con questo atto? Chiediamo che venga riaperta l'unità cinofila o venga restituita l'unità cinofila dell'arma dei Carabinieri che era presente in Umbria fino al 2012, era presente presso un edificio a Bastia Umbra e poi nell'occasione della spendirebio nel 2012 fu chiusa perché il canone di affitto di quell'edificio era particolarmente esoso, ma ovviamente non è stata tolta per via della sua utilità, ma veramente una questione meramente finanziaria. Cosa chiediamo con questo documento? Chiediamo che venga ovviamente restituita, sarà poi eventualmente in una seconda situazione, in prossimi incontri che l'arma di Carabinieri individui la struttura più idonea, ma chiediamo che vengano istituiti dei protocolli, degli incontri, delle soluzioni per rendere ovviamente l'unità cinofila fruibile anche per le polizie municipali. Presidente, io posso anche finire subito così, facciamo anche prima. Richiamo all'ordine i consiglieri, che prego di accomodarsi, chi ha bisogno di consultarsi con persone del pubblico può farlo fuori da questa aula. Bene, grazie Presidente. Continuo brevemente, vedo che l'argomento non suscita particolarmente interesse, per me lo è. Allora, arrivo al punto, cioè l'idea che l'unità cinofila collabori con le polizie municipali è già in atto in molte città del nord, parlo di Milano, Padova, Palermo, Vittorio Veneto, Bologna, ma ovviamente potrebbe essere con questa identica modalità utilizzata nelle principali città umbre, ricordo Perugia, Terni, Foligni, Umbertide, Gubbio e Città di Castello. Cosa diciamo si può ottenere? Beh, recenti fatti di cronaca dimostrano che la presenza dell'unità cinofila, quindi di un pubblico ufficiale accompagnato da un cane, riescono a veramente svolgere in sicurezza tutte le operazioni di vigilanza di un territorio. Anche determinati atti molto gravi che hanno coinvolto anche poliziotti, mi ricordo a fatti successi alla stazione di Ponte San Giovanni e di Fontivegge, sarebbero facilmente evitabili. Con questi presupposti, ovviamente, io chiedo da parte di tutta i consiglieri l'approvazione di questo documento. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. La parola va al consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Io volevo ringraziare Valerio Mancini, che unitamente al gruppo della Lega Nord, quindi a Emanuele Fiorini, ha voluto porre all'attenzione dell'Assemblea Legislativa il tema della sicurezza, nella consapevolezza che la sicurezza può essere implementata nel territorio regionale e locale attraverso i presidi, attraverso il mantenimento delle caserme, attraverso il sostegno affinché la logistica sia sempre presente e in maniera incisiva, affinché sia valorizzato il personale, donne e uomini, del comparto delle forze di sicurezza e affinché tutto questo sia gestito anche attraverso un ampio raccordo di coordinamento e adeguate tecnologie. Per quanto riguarda la sicurezza, ci permettiamo di indicare come, pur in presenza di una legge regionale sulla sicurezza, la stessa legge andrebbe dotata di maggiori risorse e anche implementata con due aspetti, quelli afferenti al sostegno per realizzare nelle stesse comunità locali, non soltanto sistemi di videocamere, ma anche centrali di controllo, affinché le videocamere possano essere monitorate 24 ore su 24. Oltre che, credo che l'esperienza dei gruppi di volontari per la sicurezza, e cioè di quadri associativi, che muniti soltanto di telefonini attraverso i quali possano informare i comandi delle polizie municipali o altri sistemi di sicurezza di eventuali potenziali rischi nel territorio debbano essere esperienze incluse all'interno della stesso quadro di una legge sulla sicurezza urbana che l'Assemblea legislativa, mi auguro nel corso di questa consigliatura, vorrà ampliare e dotare anche di maggiori risorse finanziarie. Per quanto riguarda le caserme, perché questo problema afferisce al quadro delle caserme dei presidi, ricordo che negli anni 2004-2005 il Ministero dell'Interno, attraverso degli atti dirigenziali, pose un elemento di riferimento, e cioè che i stessi presidi territoriali o quelli nuovi potevano continuare a determinarsi solo attraverso una riduzione dei canoni di affitto delle stesse strutture, qualora queste erano afferenti a proprietà private di circa il 15-20%. È da questo indirizzo dirigenziale del Ministero dell'Interno degli anni 2004-2005 che iniziarono le complessità per mantenere i presidi e anche i presidi legati alla unità cinofila che aveva sede, come ricordato il consigliere Valerio Mancini, nell'ambito del territorio comunale di Bastia-Umbra. Per questo credo che tale atto debba essere sostenuto dall'intera Assemblea legislativa. Credo con una consapevolezza che ci sarà da fare uno sforzo molto consistente da parte di tutta l'Assemblea legislativa per ottenere una deroga dal punto di vista delle ottimizzazioni dei costi di gestione. Deroga che a mio avviso deve essere sostenuta da un elemento, siamo complessivamente meno di un milione di persone, l'Umbria per intero è una città diffusa e proprio per essere una città diffusa deve anche essere valutata con criteri differenti da quello che citavo, che ripeto dall'anno 2004-2005 impongono per il mantenimento dei presidi, qualora gli stessi siano di natura privatistica, una riduzione dei canoni di affitto attestati attorno al 15-20%. E quindi nella prospettiva di soluzione di tale, diciamo, problematica, probabilmente una via possibile potrebbe essere che sia una istituzione pubblica del quadro regionale, anche afferente ad uno dei comuni a cui si faceva riferimento, che metta a disposizione degli spazi per realizzare questo presidio. Perché qualora anziché un privato questi spazi vengano messi a disposizione da parte di un pubblico, l'ente pubblico può gestire un po' meglio questo abbattimento dei costi di affitto a cui complessivamente il Ministero dell'Interno chiama in via generale i quadri regionali e i quadri nazionali. Quindi a questa, credo, risoluzione probabilmente nel ringraziare molto Valerio Mancini che la posta in maniera molto incisiva nel quadro dei termini afferenti alla sicurezza generale potrebbe trovare un ulteriore slancio questa risoluzione inserendo eventualmente l'indicazione prospettica che forse la soluzione può essere trovata più facilmente se si fa riferimento ad un ente pubblico, e ve ne sono molti, che magari a una struttura che può essere messa a disposizione con canoni di affitto ma lievemente inferiori in modo da rientrare in questo quadro di riduzione che il Ministero vuole di circa il 15-20% complessive. Ringrazio il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa per questa sua proposizione e anche il quadro della Lega Nord che ha voluto mettere con questo, unitamente al Consigliere Emanuele Fiorini, un attenzionamento sulla unità cinofila in particolare e sui temi della sicurezza in generale. Grazie. Grazie, Consigliere Ricci. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Smacchi. Grazie, Presidente. Velocemente, per esprimere il parere favorevole rispetto sia al merito sia al metodo seguito dal Vice Presidente Mancini rispetto alla proposizione di questa risoluzione. è una delle prime volte che arriva in Aula una risoluzione che ha la piena condivisione di una Commissione rispetto ad un testo su cui ha lavorato un Consigliere di minoranza. Vorrei sottolineare questo aspetto perché si può fare minoranza in diversi modi. Questo è uno dei modi che ci piace perché è un modo concreto, che va sul merito e che di fatto richiede, prima dell'esternazione dal punto di vista mediatica, richiede il consenso da parte degli altri consiglieri. Ecco, credo che se noi riusciamo in questo mandato ad essere concreti, ad essere seri e ad essere responsabili rispetto alle proposte che vengono poste all'attenzione dell'Assemblea legislativa, riusciamo sicuramente a incidere e a raggiungere risultati importanti. Quindi il mio applauso al Consigliere Mancini e credo che il metodo utilizzato con questa risoluzione possa essere replicato su altri temi importanti. Ad esempio è arrivata adesso un'altra risoluzione da parte del Consigliere Guasticchi rispetto alla materia del credito che domani andrà in prima Commissione. Ecco, credo che questi sono temi importanti per la collettività e il metodo è giusto per far sì che anche i rapporti in Aula siano veloci, siano concreti che possono dare dei risultati favorevoli. Grazie. Grazie, Consigliere Smacchi. Non vedo altri iscritti a parlare, quindi credo che possiamo procedere con la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dobbiamo votare. Chiudiamo la votazione. Presidente, presenti 18, favorevoli 18. Quindi all'unanimità approviamo l'atto numero 197. Passiamo allora all'oggetto numero 10 del nostro ordine del giorno. Si tratta di una mozione presentata dal Consigliere Fiorini, il cui oggetto è incendio verificatosi presso l'azienda Eco Recuperi SRL, in località Vascigliano del comune di Stroncone, interventi economici a sostegno delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla dispersione nell'ambiente di agenti inquinanti a seguito dell'incendio medesimo. Prego, Consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. Nella notte fra il primo e il due luglio si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni che, partendo dalla sede di Vascigliano delle Eco Recuperi SRL, si diffondeva nel territorio circostante, compreso il comune di Stroncone, con conseguenze gravi a causa della ricaduta delle ceneri e delle sostanze inquinanti per l'ambiente e per le culture, come pure per gli animali allevati nelle zone e per le persone stesse. Questo incendio ha distrutto i magazzini delle Eco Recuperi, al cui interno erano stoccati i rifiuti di materiale plastico, tre volte superiore a quello autorizzato dalla provincia di Terni in data 1.1.2008. In data 24.9.2009, la provincia di Terni aveva messo di fida nei confronti di Massimo Scerna, ovvero sia il legale rappresentante delle Eco Recuperi, con cui gli si intimava il ricollocamento di rifiuti in quanto stoccati, oltre la quantità consentita, cosa che di fatto non è avvenuta. Nell'area interessata dall'incendio si trovano 84 aziende agricole e zootecniche, alcune delle quali si sono costituite parti civili nel processo penale che ne è conseguito. Considerato che le aziende agricole e zootecniche si trovano tutt'oggi in gravi condizioni economiche, a causa delle misure cautelative imposte dall'azienda sanitaria locale 4 di Terni, in quanto l'ingendio ha causato la dispersione di diossine nell'atmosfera e nel terreno. Considerando che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Terni e la Regione Umbria hanno già realizzato un piano di interventi con il quale è stata coperta una minima parte, perché si parla di massimo circa 4.000 euro, dei danni arrecati alle aziende agricole e zootecniche, in ogni caso in maniera non proporzionale all'entità dei danni subiti dalle singole aziende. preso atto che il Tribunale di Terni, nell'udienza del 9.04.2015, dunque già a distanza di sette anni, ha condannato Massimo Scerna anche al risarcimento del danno subito dalle aziende che si sono costituite parte civile, Massimo Scerna risulta non essere in grado di risarcire i danni provocati dall'ingendio. Preso atto che alcune aziende hanno subito danni economici ingentissimi anche superiori a 100.000 euro e che anche in considerazione della grave crisi economica che in questo periodo investe l'intero Paese, alcune di loro hanno già chiuso, altre rischiano il fallimento con gravi conseguenze sia sul piano occupazionale sia sul piano economico familiare. Per tutti questi motivi chiedo alla Giunta regionale di reperire le risorse economiche necessarie per aiutare in modo proporzionale rispetto ai danni subiti dalle aziende colpite. non possiamo permettere che a causa di un incendio colposo, che a causa di una condotta imprudente e negligente del legale rappresentante dell'eco recuperi, tante aziende agricole, tanti lavoratori e tante famiglie siano ridotte alla disperazione. Tante persone oneste ne subiscono le dure conseguenze senza che nessuno le aiuti. Grazie. Grazie, Consigliere Fiorini. Ci sono altri interventi? Consigliere Liberati voleva intervenire? Grazie. Sì, condividiamo come gruppo questa mozione e l'attenzione che è necessario continuare a porre su un'area particolarmente negletta della nostra Regione. Non è l'unica per la verità, purtroppo, come abbiamo recentemente fatto notare, e questo lo ribadisco all'assessore in carica competente per materia. Non è l'unica, da Fabbro a Gubbio, da Gubbio a Terni, da Terni a Spoleto, alle discariche, a tutta una serie di situazioni veramente compromesse o al limite della sostenibilità. Stroncone subisce per la seconda volta, Vasciliano di Stroncone, in pochi anni, un'offesa, un insulto, che poteva essere certamente contenuto per tempo. Purtroppo, soltanto da pochi anni, noi assistiamo a una resipiscenza delle agenzie regionali per l'ambiente. Io sono molto critico su quello che è accaduto fino al 2010-2011. Oggi posso dire che, anche a seguito delle sollecitazioni che vengono dalla società civile, appunto, dai comitati, da una presa di coscienza che è aumentata, indubbiamente, in tutti noi, oggi è la situazione diversa. Confido che il professor Ganapini possa accendere un faro e darci un orientamento per i prossimi anni e quindi sostenga l'attività così importante e così delicata della Giunta su questa materia. Quindi, quello che qui intendo dire, ribadire, è che condivido l'analisi su questo specifico tema. Conosciamo benissimo quello che è accaduto negli ultimi anni in quella zona. La vicenda delle diossine, anche qui c'è stato un processo a seguito del quale c'è stata la condanna dell'imprenditore, quella vicenda risalente al 2009 e un processo che ha visto purtroppo anche numerosi funzionari dell'ARPA coinvolti e assolti, bisogna dire. Ora, quindi, noi dobbiamo continuare, credo, su questa strada. Le situazioni critiche in Umbria, ripeto, sono molte. In questi giorni c'è la vicenda Geseni che, attraverso i corpi di polizia, ci illustra come quello che numerosi comitati Umbri hanno, e la stessa ARPA, infine, lo scorso anno, hanno affermato, hanno accertato, era vero. In particolare parliamo delle tre discariche oggetto di gravi criticità, la difficoltà, la crisi, direi, ambientale, che deriva dal fatto, soprattutto, che i controlli erano un pochino carenti e che il fondo di queste discariche non era assolutamente al sicuro. Quindi, la vicenda di Vascigliano è certamente diversa, ma l'approccio è lo stesso. Se noi restiamo alle regole, ci salviamo, aiutiamo l'Umbria e gli Umbri, aiutiamo i nostri amici di Scopoli, troviamo una soluzione comune, migliore per tutti. Se cominciamo, se lasciamo andare le cose come sono andate negli anni passati, ci troveremo ad affrontare una sempre maggiore presenza, emersioni di situazioni critiche che poi portano alle soluzioni, agli esiti che sappiamo. Grazie. Bene, chiede la parola il consigliere Rometti. Prego. Io credo che sia condivisibile questa sollecitazione comunque a fare di più rispetto ai danni che i cittadini che abitano nell'area di stroncone di Vascigliano hanno subito a seguito di questo evento che sicuramente ha creato problemi da un punto di vista ambientale e quindi da un punto di vista economico. Il pubblico, penso alla regione, penso alle province, si è sostituito al privato che naturalmente non ha fatto quello che doveva. Mi ricordo tutte le difficoltà per rimuovere queste ceneri che comunque erano rifiuti naturalmente pericolosi, che andavano collocati con procedure particolari e quindi c'è stato un intervento da parte dei soggetti pubblici a partire dalla regione che sicuramente non ha dato risposta alla domanda di risarcimenti che c'era. D'altronde non fu dichiarato né lo stato di emergenza né lo stato di calamità da parte del Governo centrale, quindi non ci sono stati interventi che hanno, come ad esempio è successo nel caso a Campello sul Criturno, dove invece in quel caso lo scoppio dell'oleificio lì a Campello, vede il Governo e lo Stato intervenire con risorse che poi hanno consentito l'intervento sul sito, ma hanno anche consentito un più largo intervento di risanamento e di bonifica ambientale che è tuttora in corso peraltro in alcune zone di quel territorio. Lì questo non è successo e quindi naturalmente è una sollecitazione che va, come ho letto, a chiamare in causa anche il Governo centrale, direi soprattutto il Governo centrale, perché la regione non credo che potrà fare altro rispetto a quello che ha già fatto, credo che sia un qualcosa che segnala un'attenzione di questa istituzione rispetto a un problema che oramai peraltro è datato, perché sono sei anni che è avvenuto quell'evento, ma che continua a mantenere, a lasciare diciamo problemi in quel territorio. Quindi penso che si possa sostenere e condividere la mozione che è stata presentata dal Consigliere Fiorini. Ci sono altri iscritti a parlare? Tra i consiglieri no? Qualcuno dell'Aggiunta? Sì, l'Assessore Scecchini prende la parola. Anch'io, tutto sommato, condivido l'impostazione e la sollecitazione che la interrogazione, la mozione propone, non condivido, come si dice, il dispositivo, la parte finale per un motivo molto formale e normativo. La legge impedisce che con denari pubblici si possano rimborsare danni o dare contributi laddove non c'è uno stato dichiarato di calamità naturale, ma c'è semplicemente un evento che è scaturito per causa di, o disattenzione comunque, da ritrovare nelle responsabilità di un privato cittadino che poi nel momento in cui il giudice, la giustizia ha fatto il soccorso, deve rimborsare per il principio che chi rompe paga, in questo caso chi inquina risponde poi ai danni che ha subito, quindi in questo caso la legge, sia comunitaria che nazionale, impedisce di intervenire con risorse pubbliche. Nonostante questo, nel 2009, quando è scoppiato l'incendio, la Regione dell'Umbria ha portato avanti una valutazione che teneva conto che tutto sommato la parte debole, l'anello debole di tutto il ragionamento era rappresentato dall'azienda agricole, sia come aziende che hanno l'attività di allevamenti, i prati pascoli e via dicendo e quindi in questo caso ha attuato quello che autorizzato dalla Commissione europea si può fare, cioè un regime de minimis che dà piccole risorse appunto per far fronte a quelli che sono i primi adempimenti e anche le prime ripercussioni perché magari per un bel po' di tempo si sono bloccate le vendite, la movimentazione degli animali e delle produzioni. In questo caso mi pare che fossero stanziate 627 mila euro, il bando è uscito nel 2010, quindi in quel momento le domande dovevano pervenire. Delle 627 mila euro ne sono state utilizzate 243 mila perché a fronte appunto del bando delle 83 domande poi 82 aziende interessate hanno effettivamente documentato danni per questo importo. Questo non vuol dire che appunto i problemi siano tutti risolti o che per intero le problematiche vissute delle aziende siano state indennizzate, la verità è che in questo caso comunque laddove anche si opera il regime de minimis tutte le risorse debbono essere documentate e allo stesso tempo non c'è data la possibilità di intervenire con altri strumenti, confidiamo nel tempo che appunto la giustizia attraverso il privato faccia il proprio corso e che quindi rimborsi e dia conto non solo diciamo alle aziende ma anche il territorio del danno che c'è stato anche perché qui il consigliere Liberati voglio dire che nel tempo è cresciuta molto nel territorio regionale, nazionale, nelle comunità la coscienza civica legata alle tematiche ambientali e voglio anche rassicurarlo che questa è cresciuta sia nell'elettorato del Movimento delle 5 Stelle sia nell'elettorato del centro-destra, del centro-sinistra, come dire. è una coscienza collettiva che si è modificata e che ci impone a tutti noi un maggior riguardo e puntualità nell'affrontare queste problematiche che appunto non hanno un qualcuno che a prescindere farebbe o fatto tutto bene qualcun altro che a priori sbaglia, c'è invece la consapevolezza insomma intanto di rispettare le regole, le norme e di far sì che tutto quello che può essere messo a disposizione lo si possa fare. Bene, consigliere Fioriti. Grazie Assessore, condivido in parte quello che lei ha detto che è vero dell'aiuto dei minimis ma l'aiuto che hanno ricevuto non è stato in base ai danni che hanno subito ma è stata una minima minima parte perché ci sono state aziende che hanno subito oltre 100.000 euro di danni, ci sono state persone che hanno dovuto prendere prestiti per poter mantenere, per poter dare da mangiare a tutto il bestiame che avevano perché anche i raccolti sono stati bruciati che la giustizia ha fatto il suo processo è vero, il suo percorso è vero perché Massimo Scherner è stato condannato ma Massimo Scherner non ha nulla per poter restituire ai danni che ha provocato. Però noi non possiamo neanche perdere, poi delle 84 o anche 82 che lei diceva, già molti hanno chiuso, non possiamo permetterci di perdere altre aziende agricole e altri lavoratori perché questi lavoratori hanno anche una famiglia, hanno di mantenere dei figli. Io chiedo l'impegno di tutto magari per reperire risorse, magari utilizzando anche i fondi del PSR, stanziando una parte… Allora spero di poterla portare in commissione e discutere e vedere cosa possiamo fare. Grazie. Grazie consigliere. Credo che a questo punto possiamo procedere con la votazione. Dichiaro abbiamo aperto la votazione. Presidente scusi posso sospendere un minuto per favore? Sì allora sospendiamo un attimo perché qui c'è un miss… Solo un attimo di sospensione per capire un attimo… Allora se è possibile, dato che stavamo interloquendo con l'assessore, chiedo se è possibile un attimo di sospensione. Se eravamo in fase di votazione concludiamo. Siamo in fase di votazione quindi dobbiamo… Allora, un attimo. Allora, la signora ha sospeso la votazione in quanto ha capito che poteva essere sospesa. Quindi tecnicamente con la votazione in corso si può chiedere una sua sospensione… consigliere Biancarelli. Nonostante in precedenza non ho potuto partecipare a una votazione, credo che la motivazione portata dal consigliere Smacchi sia valida. L'importante è che siamo gentiluomini e gentildonne. Quindi le votazioni, quando è necessario riaprirle, anche se sono in corso, si riaprono. Perché è bene spendere qualche secondo in più per chiarirci. Ecco, quindi nonostante una volta credo di essere stato penalizzato dalla modalità, sono totalmente a favore della richiesta del consigliere Smacchi. Allora, sospendiamo, però ricordo che Giuseppe, lei non è stato penalizzato. La votazione in quel caso era determinata e lei stava fuori e noi… Ecco. Comunque, siccome abbiamo anche il quadro dei voti che erano stati espressi, intanto sospendiamo. Quindi non abbiamo perso nulla e prendiamo un attimo… Allora, l'oggetto della richiesta intanto. Allora… Allora… Possiamo sospendere, facciamo una riunione dei capi gruppo, grazie. Concesso, la sospensione. Grazieantolo. Grazie a tutti. Aboss groans e risponde vi date! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.